Risultati ancora parziali, diciamo che per scaramanzia sarebbe meglio aspettare la fine di questi impossibili spogli. In ogni caso mi pare che si possa salutare l'ennesima vittoria del centrodestra da un anno a questa parte e che si possa salutare un altro elemento molto importante per noi che è la crescita di Fratelli d'Italia. Assolutamente non scontata, qui come in Abruzzo Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce oltre alla Lega e questo lascia ben sperare penso anche per il futuro del governo della nazione visto anche un tracollo dei Cinque Stelle che non ha precedenti nella storia della Repubblica italiana.